Gioco, partita, incontro. Si sono chiusi domenica al Beach Stadium di Marotta e allo Smash Paddle and Beach di Pesaro i campionati interprovinciali di Beach Volley e Beach Tennis organizzati dal CSI di Pesagurbino in collaborazione con il Comitato di Ancona. Circa 200 giocatori impegnati da gennaio a maggio per un totale di 24 squadre che si sono date battaglie in 8 centri sportivi da Pesaro a Moie. A Marotta a laurearsi campioni nel Beach Volley sono stati i padroni di casa del Beach Stadium One che dopo una partenza senza infamia nell'ode sono stati autori di una seconda parte di stagione praticamente perfetta, culminata con la finalissima in cui sono stati capaci di conquistare 11 punti sui 12 disponibili prima del doppio 2-0 in semifinale e finale che li ha fatti salire sul gradino più alto del podio. A cedere il passo in finale sono stati gli altrettanto bravi ragazzi del Bola Club 1 di Moie, autori di un percorso inverso rispetto ai marottesi, fatto di una prima parte impeccabile e una seconda leggermente in calo. Terza piazza per l'altra formazione di casa, il Beach Stadium Attenti al Cane, che nella finalina ha avuto la meglio sui fanesi della Beach House 2. La formazione regina del Beach Tennis è invece quella dei Munto Best di Iesi, che a Pesaro, dove domenica si sono ritrovate le migliori 8 formazioni qualificate per il tabellone gold, ha superato prima due formazioni locali e poi la fanese dei Beach Tabù nella finalissima. La squadra della nuova Beach House, dopo aver superato ai quarti il batteam di Iesi e in semifinale gli sconvol di Pesaro, ha alzato bandiera bianca all'ultimo atto contro Capitan Lucconi e compagni, vittoriosi per 2-1 a coronamento di un campionato eccellente. Nel derby pesarese per il bronzo, vittoria di Drink Team su sconvol, mentre a vincere il tabellone silver l'altra formazione fanese, Cipe Chop, che si è imposta alla nuova Beach House sulla squadra del Lucrezia Beach Rintin Team.